Buon pomeriggio e benvenuti a questo appuntamento dedicato al comfort acustico e in particolar modo oggi andremo a focalizzare la nostra attenzione sul comfort acustico nei bar e nei ristoranti. Credo che ognuno di noi almeno una volta abbia frequentato un ristorante o un bar dove l'acustica non era delle migliori e si sia sentito disturbato dal rumore a tal punto da voler lasciare magari anche con un certo anticipo rispetto a quanto previsto il locale. Quindi oggi cercheremo di capire come è possibile migliorare e correggere eventualmente anche, scusate, correggere il problema acustico e migliorare il benessere acustico in questa tipologia di ambienti. E lo faremo andando a conoscere in dettaglio, come abbiamo fatto anche per i primi due incontri, un progetto dove il problema acustico rilevato è stato corretto mediante l'utilizzo di un particolare prodotto dei pannelli, pannelli Isol Space di Tecna Spalti Isolmant. Il progetto che andremo a conoscere oggi è il ristorante Birreria Lowengrube di Civitanova Marche e lo conosceremo il progetto in dettaglio grazie al progettista che è l'architetto Francesco Scanu di Area 17 Architecture Interiors e l'ingegnere di Area Quarantelli, Product Manager di Isol Space, ufficio tecnico, si sono occupati anche delle simulazioni pre e post posa dei pannelli. Io invito sia l'architetto che Ilaria a ricollegarsi un attimo così ve li presento, ecco qua, l'ingegnere di Area Quarantelli e l'architetto Francesco Scanu. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. attraverso l'apposito menu alla vostra destra, nelle menu domande nel pannello di controllo GoToWebinar. Vedo qualcuno ci sta già salutando, però io direi adesso di iniziare. Iniziamo effettivamente, come avevo già un po' accennato qualche istante fa, a capire come nasce questo progetto, per cui io congedo momentaneamente l'ingegnere Ilaria Quarantelli che ritroveremo tra una ventina di minuti e andremo proprio a capire tecnicamente di cosa stiamo parlando quando si parla appunto di correzione acustica in questa tipologia di ambienti. Iniziamo tra qualche istante e rimaniamo adesso solo io e l'architetto Scanu. Architetto, allora a lei la parola, adesso le condivido anche lo schermo così ci fa capire innanzitutto chi è, chi sono Area 17, architecture and interiors, cosa fate? Come si è sviluppato questo progetto? Le lascio la parola, architetto. Perfetto, io la ringrazio, grazie anche per l'opportunità di poter presentare il progetto e di poter approfondire appunto le tematiche dell'acustica in questi tipi di spazi. Io vi prendo 5 minuti per fare un'introduzione su Area 17 sul mio studio. Noi siamo uno studio che opera da più di 15 anni, che opera a livello internazionale. C'è una bella storia dietro che a me piace sempre raccontare, perché tutti i titolari dello studio, in questo momento siamo in nove, dove hanno condiviso gli studi insieme qui a Firenze, dove la nostra serie principale ha luogo e che poi, dopo il periodo di studi, dopo degli anni in cui ognuno ha fatto le proprie esperienze in giro per il mondo, ci siamo rimessi insieme attorno a questo progetto. Un progetto che appunto ci vede tutti insieme spinti nel desiderio di affrontare l'architettura e il design con quello che abbiamo apparato a Firenze in Italia, quindi essere promotori sia diciamo in Italia, ma soprattutto all'estero della cultura della progettazione con cui noi ci siamo formati. Attualmente lo studio è presente appunto a Firenze, dove ha la serie principale, è in Asia, principalmente in Cina, dove siamo a Shanghai, a Pechino e a Hong Kong, e anche in Sud America, in Ecuador. Operiamo su un... principalmente nei settori dell'architettura commerciale, del retail e dell'hospitality. Abbiamo diciamo avuto la fortuna di avere delle partnership con dei brand molto importanti che ci hanno permesso appunto in questi anni di crescere, sia voglio dire come dimensioni di studio, ma soprattutto come know-how, e quindi abbiamo avuto la fortuna di essere stati esposti a diverse esperienze molto significative. Per citarvene alcune, noi siamo, uno degli ambiti di nostra specializzazione è appunto quello della grande distribuzione, dove diciamo abbiamo progettato tantissimo in Italia per Coop, per il gruppo Coop, ma anche all'estero, in Cina per il gruppo Alibaba. Abbiamo partecipato proprio allo sviluppo degli ultimi concept, anche proprio di questo gigante asiatico, che sono interessantissimi. L'altro settore in cui operiamo è quello del fashion, quindi seguendo marchi di moda che sviluppano sia in Italia sia all'estero, e noi supportiamo appunto questo sviluppo sia appunto con il concept, proponendo nuovi modelli commerciali, ma anche proprio nel roll out, quindi supportando le aziende che hanno l'esigenza appunto di sviluppare tanti punti vendita in un breve tempo all'estero, molti dei quali hanno magari sede in Italia, insomma il fatto di essere uno studio, insomma, con delle ramificazioni molto forti in Cina, ci ha permesso appunto di poter servire appunto gli sviluppi di queste aziende in maniera molto efficace. Chiudo con la parte del, diciamo, dell'ospitali, dove ci metto dentro, sia la parte dell'alberghiero, sia della ristorazione, anche qui per, insomma, nominarvi la nostra esperienza, che parte da, diciamo, la consulenza con due società molto importanti, una in Cina che si chiama Power Long, ed è il più importante sviluppatore di alberghiero appunto della Cina, e con il Medio Oriente invece dove facciamo consulting per il gruppo EMAR. In Italia abbiamo, diciamo, lavoriamo già da tanti anni per diverse catene di ristorazione, e qui poi mi avvicino proprio al progetto che vedremo ora. Uno fra tutti è sicuramente l'Owen Group, che supportiamo già da qualche anno, e parallelamente anche lavoriamo per un altro gruppo che si chiama Dispense Emilia. Entrambi sono gruppi interessanti, non si sovrappongono perché lavorano su, diciamo, con dei concetti molto diversi, ma che, diciamo, sono, fanno parte di un settore che è molto in grande sviluppo, no? Che è quello della ristorazione commerciale. Ristorazione commerciale che, diciamo, nasce ovviamente dal cambiamento delle modalità e delle abitudini di vita delle persone, sicuramente prima dall'estero, ma ora negli ultimi, diciamo, due decenni, fatemi dire anche in Italia, ovvero la famiglia di oggi non cucina sempre tutto in casa, ma ricorre molto spesso a, diciamo, a consumare dei pasti all'esterno, quindi nei ristoranti, sia tramite, voglio dire, proprio il dime-in, quindi andare a mangiare fuori, sia a pranzo, sia a cena, ma anche a soluzioni intermedi, come per esempio la consegna a domicilio oppure l'asporto. All'interno di questo settore, che appunto si sta sviluppando in maniera importante in questi anni, lo farà ancora di più in futuro, diciamo, vengono fuori delle esigenze dal punto di vista della progettazione, con esigenze che sono un po' mutate, quindi non è più la classica progettazione del ristorante, ma è un approccio molto più complesso, dove si va a, diciamo, confezionare dei concept e dei concetti che hanno l'esigenza, per esempio, di essere replicati, hanno l'esigenza di essere adattati a dei contesti che sono diversi, hanno anche l'esigenza di, voglio dire, essere supportati da tutta una serie di caratteristiche che devono essere omogenee nel tempo e che permettono poi al cliente poter rifluire un'esperienza che ha una sua, un suo livello qualitativo che è fondamentale per questi brand mantenere. Il lavoro che abbiamo fatto per l'Ou in grube è stato molto interessante, molto interessante perché il brand è un ibrido, no? È un, diciamo, la sua missione è quello di portare l'esperienza della birreria bavarese, l'esperienza soprattutto dell'Octoberfest, quindi questo ambiente molto gioviale, e quindi, diciamo, di ispirazione sicuramente bavarese, però reinterpretato in chiave italiana perché l'Ou in grube è un marchio di proprietà di una società italiana che lo sviluppa. Proprio questa necessità di ibridarlo è stata molto interessante. interessante perché, diciamo, ci ha dato la possibilità anche di rivisitare l'idea appunto della birreria bavarese da una parte in chiave appunto italiana, come vi ho detto, ma anche in chiave contemporanea. E questa esigenza di creare appunto un'immagine diversa e, diciamo, attualizzata ha, diciamo, spinto e ha indirizzato il progetto per le scelte che poi sono state realizzate. Nel momento appunto in cui abbiamo approcciato questo progetto ci siamo mossi all'interno di alcuni capisaldi, no? Primo fra tutti quello di ritrovare l'essenza dell'identità bavarese, e quindi la volontà di creare uno spazio che fosse, che fosse genuino e che fosse uno spazio molto, molto conviviale, quindi che desse la possibilità alle persone che lo frequentano di, diciamo, non solo assaggiare o degustare l'aspetto, diciamo, gastronomico, ma anche appunto di vivere l'esperienza così come si vive l'Octoberfest, quindi molto, se volete anche, dico, non voglio dire rumorosa perché non si presta come aggettivo proprio per le tematiche che stiamo affrontando oggi, però proprio molto conviviale, molto festosa, ecco, questo è il termine giusto, è interpretata in chiave moderna. Lo step successivo è quello di capire in che maniera questa identità si astrime in maniera autentica, quindi il costruire un'identità che non deve essere una copia di quello che si ritrova in Baviera, ma che abbia una sua identità e una sua autenticità, e su questa autenticità è proprio dove, diciamo, l'obiettivo è stato quello di tirar fuori l'italianità, quindi la cura del dettaglio, insomma, l'accoglienza e la genuità anche del prodotto proprio che viene servito. Gli altri aspetti poi sono quelli che permettano a questa formula di replicarsi, quindi la ricerca di un formato che fosse solido, ovvero che fosse, per esempio, sostenibile dei costi, quindi avere qualcosa che fosse facile da replicare, che fosse anche flessibile nella sua applicazione, perché un format commerciale ha bisogno di essere replicato in più location e sostanzialmente sono location che sono sempre diverse, quindi anche la necessità di avere più una cassetta degli attrezzi, appunto, che permette poi di applicare questo vestito su situazioni molto diverse. La location che appunto vi presentiamo oggi è quella di Civitanova Marche, che è una location molto interessante, perché è subito all'uscita dell'autostrada, quindi un posto di grande passaggio e di grande visibilità. Di per sé siamo andati ad inserirci in un edificio che era esistente, un edificio commerciale, quindi di fatto progettato senza un'idea precisa di quello che ci dovesse essere dentro, quindi l'edificio non è stato progettato da noi, ce lo siamo ritrovato, un edificio molto, con un'impronta in pianta molto particolare perché è stretto e lungo, è sviluppato su tre piani, quindi un piano interrato, un piano terra e un piano primo. Di per sé è un'architettura abbastanza, voglio dire, anonima, niente di che, però con la particolare realtà di avere grandi superfici vetrate, quindi sia al piano terra sia al piano superiore una predominanza di superfici vetrate che, diciamo, come architetto apprezzo sempre, nel senso che danno la possibilità di utilizzare la luce naturale al meglio e danno anche la possibilità di rendere visibile appunto le attività che si sviluppano dentro, cosa particolarmente importante per una struttura di ristorazione che vuole attrarre la clientela. Certo che queste grandi superfici vetrate, in realtà poi nel momento in cui uno affronta la tematica dal punto di vista acustico, in realtà sono un elemento sfidante perché il vetro è un materiale molto duro, quindi creare dei riverberi e non ha un impatto positivo poi sul comfort acustico all'interno dei locali. Altro elemento che sicuramente è condizionante del progetto era l'altezza perché avevamo a disposizione dei locali molto bassi, diciamo che il grezzo interno era di intorno ai tre metri, quindi sostanzialmente non ci dava la possibilità di realizzare delle controsuffittature. Questa è la pianta, diciamo l'impronta che vi anticipavo prima, quindi essere stretta e lunga, con un ingresso centrale, quindi si entra centralmente, andando direttamente su questo blocco centrale che è anche il collegamento verticale, che di fatto divide un po' la pianta in due ali. Al piano terra è collocata la cucina sulla parte destra e la prima porzola si sarà sulla parte sinistra. Quelli che vedete raccontati con i colori sono i principi che generano la distribuzione interna all'interno del concept in loving group, quindi abbiamo un'area che è l'area di accoglienza, che è subito dopo la porta d'ingresso e poi troviamo subito uno dei focus principali del concetto che è quello della birra, quindi troviamo subito in prossimità dell'ingresso l'area di, diciamo il bancone, dove è preeminente anche la parte di mescita, quindi dove è possibile vedere come viene spillata la birra e che lavora in sinergia con un'altra zona di grande impatto, diciamo estetico, che è quella della cella della birra, che è un elemento che è stato in questo formato reso molto attraente perché è completamente vetrato e quindi dà la possibilità di vedere i fusti della birra esposti e illuminati anche in maniera molto scenografica. L'organizzazione della sala attorno a questi elementi di attrattività è declinata per dare diversi tipi di esperienze, diversi tipi di risposta a una clientela che in realtà è varia perché diciamo questo è un formato che attrae non solo gli udri giovani da birreria ma attrae anche la coppia, attrae anche le famiglie, quindi ci sono esigenze che variano e che sono state di fatto assecondate all'interno del progetto per dare delle risorse che sono modulate e che vanno anche a rispondere a delle esperienze che poi saranno completamente diverse l'uno dall'altro. Quindi in questo spazio a piano terra troviamo le parti più intime, quindi dove troviamo magari il tavolino da due o massimo da quattro, che è quella più indirizzata a una frequentazione per coppie. Al piano superiore, a cui appunto si accede dal collegamento verticale e centrale, troviamo da un lato un'altra area, quella più conviviale appunto legata proprio all'esperienza dell'Octoberfest dove troviamo dei tavoli comuni, questi sono i classi tavoloni da birreria con le panche e troviamo dalla parte opposta, dall'altra ala, invece la zona dedicata alle famiglie dove troviamo tavoli più abbondanti che possono essere anche facilmente raggruppati e soprattutto la prossimità poi con la zona dedicata ai bambini, lo spazio kinder, quindi la sala giochi interna al ristorante. Il progetto si completa poi col piano interrato dove trovano posto la porzione di bagni pubbliche e locali di servizio, quindi magazzini e locali tecnici. Dal punto di vista dell'estetica del locale, ora dopo vedremo anche dei rendering, l'idea è stata proprio quella di reinterpretare l'estetica bavarese in chiave moderna e contemporanea, quindi dal punto di vista della materialità sicuramente abbiamo attinto voglio dire a piena e mali a quelli che sono dei caratteri estetici della classica birreria bavarese, quindi l'utilizzo di legni diciamo invecchiati, quindi lavorati dal tempo e dall'usura, metalli anche pregiati come il rame, abbinati a diciamo un supporto grafico basato sia sulla classica bandiera a rombi bavarese blu e bianca, ma soprattutto anche con una carta da parati, una texture che abbiamo sviluppato noi, che gioca con tutto un supporto appunto iconografico bavarese che abbiamo reinterpretato per creare una texture, una carta da parati che poi viene utilizzata per la connotazione di alcune zone del ristorante. Altro elemento che è sicuramente importante e correda poi completa appunto questa paletta, questa cassetta degli attrezzi di materiali è anche l'uso proprio di elementi tipici legati alla birra, quindi sia il fusto della birra che è utilizzato anche in maniera estetica appunto con la cella a vista come vi dicevo prima, ma anche per esempio il calice, il boccale della birra che abbiamo utilizzato per creare dei punti di attrazione. Questo è come diciamo appare il ristorante, questi sono ancora dei rendering del progetto, poi alla fine del mio intervento farò vedere anche le foto del realizzato. Questo è un focus sulla appunto sulla sulla zona di spillatura della birra, quindi del banco con la cella a vista, quindi vedete il pavimento è sostanzialmente in legno, ora appare in legno ma in realtà questo è un grass, un grass effetto legno, l'importanza della cella a birra che viene appunto sfruttata in maniera estetica, quindi è completamente visibile e illuminata in maniera scenografica e poi l'utilizzo del rame e del trattamento a scaglie che richiama la bandiera appunto dei colori della bandiera gavarese per dare un focus sul sul banco. In questa vista invece vedete l'utilizzo della carta da parati, quindi come questa venga usata anche per diciamo se da ammatizzare se volete un ambiente che nelle birrerie è sempre molto scuro, molto diciamo intimo, diciamo noi abbiamo cercato appunto di modernizzarlo e anche di dare un aspetto più gradevole, quindi anche utilizzando delle ampie superfici decorate ma con una texture, con un pattern chiaro appunto per bilanciare questo tipo di sensazione. Qui siamo passati al piano sopra, vedete qui in basso la zona dell'Octoberfest con i tavoli conviviali e le panche e questa è la zona invece delle famiglie dove troviamo appunto dei tavoli che è possibile combinare così come anche dei tavoli alti per cercare di creare uno spazio dinamico e non monotono. Dal punto di vista dei materiali appunto quello che vi dicevo prima, quindi la presenza di grandi superfici vetrate non aiuta dal punto di vista del comfort, cioè aiuta dal punto di vista della sensazione generale della presenza di luce naturale, però dal punto di vista acustico è sicuramente un elemento sfidante e così come anche poi per esempio il pavimento di grass. Per cui all'interno di questo diciamo di questo contesto era necessario andare ad attivare una serie di interventi che ci permettessero invece di migliorare le performance acustiche di quest'ambiente. Insomma come come introduceva prima Lara, il diciamo questi qui sono degli ambienti che nascono con uno scopo, lo scopo è quello di rendere piacevole la permanenza all'interno, quindi noi come architetti abbiamo diciamo l'obiettivo di renderla piacevole conformando gli spazi, diciamo creando un design degli interni che sia che sia accogliente, che sia accattivante, che sia piacevole, curando l'illuminazione in modo che anche questa sia vada incontro insomma da una parte al valorizzare l'ambiente interno ma anche a creare la giusta atmosfera e non dall'ultimo c'è sicuramente l'aspetto del del comfort acustico, soprattutto in spazi che sono molto sfidanti da questo punto di vista perché frequentati da tante persone. Io non ho menzionato dati tecnici però qui stiamo parlando di un ristorante che ha 200 posti, quindi immaginate uno stanzone come questo, uno spazio come questo al piano superiore dove abbiamo contemporanea 150 persone che parlano e si divertono ecco qui insomma si può arrivare a picchi diciamo di rumore di rumore importanti. Io mi fermerei qui così do la parola all'ingegner Quarantelli che magari vi illustra il progetto tecnico, io vi lascio solo con la slide del soffitti, dove appunto trovate la distribuzione dei pannelli, qui come vi dicevo il soffitto era molto basso perché sono 3 metri, la parte impiantistica doveva convivere nello stesso spazio sia nella porzione di illuminazione, quindi dove abbiamo previsto dei binari con dei faretti e nella parte di pulibilizzazione dove troviamo il soffitto. L'obiettivo avendo uno spazio dove tutti questi sistemi sono esporti è stato quello di creare una geometria molto pulita e lavorare con dei colori oscuri che in qualche maniera omogenizzassero la percezione di questi elementi, non potendo appunto realizzare un contro soffitto che chiudesse tutto. Io ingegnere le lascio la parola. Grazie. Adesso arrivo. Il segno ruolo di... Ecco qua, ecco qua. Ok. Perfetto. Sì, mi ricollego brevissimamente a quanto anticipato appunto dall'architetto scano e da Lara, parlando dell'acustica degli ambienti ricettivi, dei ristoranti, dei bar. Il tema dell'acustica in generale, il riconforto acustico all'interno degli edifici è un tema che prende sempre più piede e viene sempre più percepito e analizzato a livello progettuale. Come giustamente diceva Lara, è esperienza di tutti, almeno una volta aver passato, trascorso del tempo, in locali acusticamente poco confortevoli. Lo scarso conforto acustico si ripercuote sull'esperienza, su tutte le esperienze che viviamo, in particolare su quella appunto degli ambienti ricettivi. Quindi se trascorriamo del tempo in un ambiente rumoroso, anche la nostra percezione dell'ambiente e del cibo, per esempio, in questo caso, ne verrà compromessa. Perciò andare a analizzare e attuare delle strategie per contenere il rumore e migliorare il conforto acustico negli spazi, a livello progettuale, è sicuramente una strategia vincente, perché si riescono a combinare elementi tecnici di correzione acustica a quello che è il progetto nella sua complessità e nella sua totalità. Ci sono molte strategie che possiamo attuare per controllare il rumore negli ambienti. Ad esempio, ridurre il rumore di fondo all'interno degli ambienti ricettivi attraverso l'isolamento delle parti più rumorose, quindi della cucina o del bar e degli impianti soprattutto, che in un ambiente ricettivo ci sono e funzionano, e utilizzare gli impianti di diffusione musicale in modo opportuno. separare fisicamente zone più rumorose da zone che hanno bisogno di più privacy, come è stato fatto in questo progetto, quindi creare delle zone dedicate alle famiglie e ai bambini, le zone dedicate alla convivialità e delle zone invece riservate per coppie o per zone più intime. Tutto questo, inoltre, è possibile utilizzare strumenti, tecnologie per controllare il riverbero, quindi integrare elementi fonoassorbenti nell'arredamento, proprio come è stato fatto nel progetto della birreria. In ogni caso, sia che parliamo di nuova costruzione che di ristrutturazione, è necessario che la soluzione che andiamo a scegliere sia veloce, in particolare in ambienti ricettivi in cui non sempre c'è molto tempo a disposizione per realizzare le opere, sia sostenibile dal punto di vista dell'ambiente, quindi sostenibile per l'ambiente, sostenibile per l'uomo che vive negli spazi, e sostenibile anche economicamente, come giustamente diceva l'architetto, e che sia integrabile nel nostro progetto, quindi integrabile nell'ambiente. IsoSpace propone una gamma isolmant Tecna Asfalti, come azienda propone una gamma per la correzione acustica degli spazi, denominata IsolSpace. All'interno di questa gamma di prodotti ci sono quattro elementi, che sono style, industry, sky e skin, ognuna delle quali interviene in situazioni più o meno specifiche, quindi prodotti diversi per situazioni diverse. Abbiamo, parto dall'ultimo, diciamo dall'ultimo nato, skin, che è un prodotto più orientato al design, sky, un prodotto da controsoffitto classico 60x60, industry, la versione pannello fonoassorbente dedicato agli ambienti, grossi spazi, agli ambienti industriali, e style, che è il pannello, diciamo, più versatile della gamma che è stato scelto per questo progetto. Andiamo a vedere quindi le caratteristiche tecniche di style. Style è un prodotto in fibra FibTech di poliestere, nasce nei colori bianco o nero, e ha la particolarità di poter essere stampato sulla faccia vista, e quindi poter essere personalizzato con colori o con immagini. Immagini che possono essere a scelta e fornite dal cliente, come è successo anche in questo caso. I pannelli hanno dimensioni che vanno dal 50 cm x 70 fino ai 2 m x 1,40 m, nella versione rettangolare, e nella versione circolare diametri che vanno dal 45 cm al 125 cm. Style è disponibile in tre versioni, appunto. Style black and white, la versione bianca e nera del pannello, la versione original con il pannello stampato con immagini personalizzate, e la stampa può avvenire sia solo su un lato che su entrambi i lati del pannello, o la versione pantone, cioè il pannello in tinta unita, che è stato utilizzato per questo progetto in massima parte, quindi i pannelli sono stati previsti, per la stragrande maggioranza dei casi, a soffitto, proprio perché le pareti erano molto in larga parte vetrate, e è stato scelto un colore tono su tono, quindi un colore che riprendesse l'arredamento e il colore del soffitto e andasse quindi a mascherarsi, a nascondersi tra gli impianti e, diciamo, desse un effetto, diciamo, in tinta con l'arredamento, per non caricare ulteriormente la parte estetica, appunto, già ricca di suo alle pareti e nei decori. Dal punto di vista tecnico, Style è un pannello molto performante, il valore che si utilizza per valutare la prestazione di un pannello fonoassorbente è il coefficiente di assorbimento acustico, questo è un valore che va da 0 a 1 e per Style è pari a 0,80, questo significa che l'80% dell'energia incidente sul pannello viene assorbita e non riflessa nell'ambiente, quindi è un prodotto molto performante. Questo significa che è possibile utilizzare poco materiale, opportunamente calibrandolo, quindi non è necessario caricare eccessivamente l'ambiente di pannelli fonoassorbenti per ottenere un buon risultato. Il processo produttivo di Style è a densità variabile lungo lo spessore, è una tecnologia di produzione messa a punto da Isolmant, che permette di aumentare il coefficiente di assorbimento acustico rispetto a un pannello di densità costante, quindi abbiamo un pannello prestazionale in basso spessore, in particolare lo spessore del pannello Style è 4,5 cm. Tutte le caratteristiche di Style sono certificate, quindi dalla emissione di sostanze volatili alla reazione al fuoco, ovviamente alla componente acustica, e l'ufficio tecnico di Isolmant è a disposizione per un supporto tecnico alla progettazione. La densità, il peso dei pannelli è molto basso, la fibra FIPTEC non ha bisogno di densità molto elevate, a differenza di prodotti di diversa natura, e questo consente di avere un pannello molto leggero e quindi facile da maneggiare, da posare, e quindi in linea con la richiesta di velocità e di facilità di posa che caratterizza i progetti. È pulibile, essendo una fibra plastica derivante dal riciclo delle bottiglie di plastica, è lavabile, è pulibile, ed è anche, in base alle sue modalità di posa, removibile e riposizionabile. Dicevo che il pannello è realizzato in fibra FIPTEC, la fibra FIPTEC è una fibra che appunto deriva dal riciclo delle bottiglie di plastica, ha un contenuto di riciclato del 70%, che lo rende compatibile e rispettoso tra l'altro della normativa dei suoi criteri ambientali minimi, è a sua volta riciclabile, essendo un materiale plastico non si degrada nel tempo e non è attaccabile da muffe o batteri, inoltre non emette sostanze volatili, è in classe VOCA+, cioè la classe migliore in termini di non emissione di sostanze volatili o formaldeide, è ovviamente atossica e analergica. Vediamo ora quali sono stati i risultati dell'intervento, quindi del posizionamento dei pannelli isospace style nell'ambiente. Per questo progetto abbiamo supportato lo studio Area 17 nella individuazione dell'intervento migliore dal punto di vista acustico quantificando il numero di pannelli o comunque la superficie panoassorbente da inserire nelle varie aree del locale. Partiamo dalla zona della convivialità, quindi zona Oktoberfest. Questa zona presenta una superficie di circa 120 metri quadri in pianta. I risultati in termini di tempo di reverberazione, cioè di coda sonora all'interno dell'ambiente, pre-intervento era di un secondo e 37. sono stati applicati 25 pannelli style in formato 100x140 in aderenza al soffitto e corrispondenti a 35 metri quadri di superficie con assorbente, il risultato ottenuto è stato di 0,87, sceso di a 0,87 secondi. Nella seconda area, quella destinata alle famiglie, è una superficie di 90 metri quadri in pianta. Abbiamo un secondo e 47, quindi ancora più alto, di tempo di reverberazione pre-intervento e un risultato di 0,86 secondi dopo l'intervento. L'intervento ha visto il posizionamento di 21 pannelli corrispondenti a meno di 30 metri quadri di superficie con assorbente in aderenza. L'ultima parte, quella più sensibile, se vogliamo, quella in cui doveva essere garantito maggior comfort, quella dell'area delle coppie, per una superficie in pianta di 90 metri quadri. Avevamo un tempo di reverberazione di più di un secondo prima dell'intervento e poi 0,68 secondi post-intervento. In quest'area sono stati applicati quasi 40 metri quadri di pannelli fonoassorbenti proprio perché appunto si voleva aumentare il comfort in questa zona specifica. In questo conteggio non sono stati considerati i pannelli a parete, sono stati applicati pochi pannelli anche a parete, in questo caso nella versione personalizzata. la versione personalizzata del pannello è interessante perché permette di far diventare i pannelli fonoassorbenti dei veri e propri quadri quindi questi elementi di natura tecnica possono integrarsi perfettamente all'interno dell'ambiente tramite appunto la stampa che li rende del tutto simili a quadri. come i quadri si possono incorniciare quindi vediamo come si possono posare i pannelli una delle tecniche di posa è quella proprio con la cornice noi proponiamo una cornice a listino che quella che vedete è una cornice in alluminio color argento satinato o nero opaco in realtà tanti clienti scelgono di realizzare far realizzare su misura delle cornici per i pannelli come in questo caso forse l'architetto poi avrà qualche foto e quindi in questo caso sono state realizzate delle cornici in legno e i pannelli sono stati inseriti appunto dentro alle cornici posizionati a parete la finitura di questi pannelli stampati personalizzati è stata fatta con immagini diciamo corporate della birreria quindi sono state riprese le immagini utilizzate per la pubblicità per i menu per il sito internet locandine mi sembra di ricordare fossero locandine comunque inerenti al mondo della convivialità dell'Octoberfest e sono state applicate appunto tramite stampa sui pannelli un altro metodo di posa quello che è stato utilizzato invece per il soffitto è la posa tramite velcro il velcro che viene fornito da noi si ancora direttamente sul pannello viene applicato al soffitto e poi il pannello si ancora agli uncini del velcro questo velcro appunto sviluppato appositamente permette di garantire una tenuta perfetta del pannello nel caso in cui non si possa o non si voglia posare con il velcro oppure si possono anche abbinare le due metodi di posa con il velcro e con la colla quindi i pannelli si possono anche incollare le altre due modalità di posa sono la posa a isola e la posa a baffle quindi con pannelli sospesi al soffitto in un caso nel caso di posa a isola il pannello viene ribassato rispetto al soffitto tramite dei kit di pendinatura quindi il pannello rimane parallelo orientato rispetto al soffitto e la posa a baffle invece prevede il pannello perpendicolare al soffitto sempre con dei kit di pendinatura forniti già assemblati sul pannello io lascio ripasso la parola all'architetto toscano per proseguire con il racconto del progetto infatti adesso infatti adesso allora Ilaria ti chiedo sopra chiudere il microfono ecco che non so se sia dovuto a me o a te l'abbiamo già sentito forse è un problema proprio anche della piattaforma non lo so oggi però preferisco ok si sente non si sente più l'ecco perfetto allora architetto vediamo eravamo rimasti qua quindi praticamente avevate individuato il materiale abbiamo visto il materiale queste sono le piante dove ci dà un'idea del numero di come sono stati posati i pannelli e andiamo a vedere poi cosa qual è il risultato finale esatto quindi vediamo un po' di foto questo è il risultato dell'esterno dell'edificio ecco questo è l'interno qui già si può si può apprezzare un po' quello che dicevamo dell'integrazione vedete sulla parte alta come appunto sia un sistema che è di per sé molto semplice nel senso che qui volutamente il soffitto era tutta la parte impiantistica è tenuta a vista perché comunque insomma è un'estetica che comunque abbiamo ricercato e che volesse essere anche un po' se volete industriale da questo punto di vista il soffitto però è particolarmente basso particolarmente basso ha delle diciamo delle porzioni ricalate delle travi per cui non era comunque semplice andare a diciamo ricreare qualcosa che fosse comunque piacevole dal punto di vista della percezione abbiamo scelto di diciamo di abbiamo avuto la fortuna diciamo che l'impianto di climatizzazione non avesse bisogno dell'area primaria perché la stessa è fornita dalle vetrate che sono apribili per cui di fatto avevamo solo pochi poche cassette a soffitto il resto della composizione è guidata dall'illuminazione che quindi sostanzialmente tramite dei binari che si alternano appunto ai pannelli che vedete questi che vi sto indicando al momento che sono stati diciamo prodotti con lo stesso colore del del soffitto lo stesso colore poi anche per esempio della parte della parte impiantistica l'altro elemento che forse non ho menzionato prima è comunque anche la facilità di installazione in progetti di questa natura progetti di commerciali di ristorazione commerciale hanno comunque delle canterizzazioni che sono molto molto brevi nel senso questo è un progetto che che va giù in un paio di mesi due o tre mesi per cui anche avere appunto la possibilità di soluzioni che appunto come questa del velcro che sono veramente semplicissime da installare agevola appunto un processo che già di per sé è abbastanza complesso questa è una foto del focus sulla parte di spillatura della birra questo è un dettaglio della della cella della birra vista con l'illuminazione appunto che teatralizza proprio questo momento questa è una foto della porzione dell'ascensore che è rivestito appunto con questa carta da parati col tema bavarese e qui si rivede bene e qui siamo al piano al piano superiore al piano primo si vede bene proprio la soluzione dell'inserimento dei pannelli e qui si vede anche uno dei appunto pannelli dei finti quadri che hanno veri quadri ma diciamo che hanno anche la performance acustica con il pannello acustico e diciamo questo qui è stato un elemento molto interessante perché diciamo ci permette di di andare a diciamo fare un doppio uso di una superficie quindi poter utilizzare appunto fare un quadro che non è solo un quadro ma ci dà anche una componente di performance acustica una cosa molto interessante che abbiamo inserito nel progetto molto volentieri ha la possibilità appunto anche di essere personalizzata quindi in questo caso noi abbiamo fatto delle cornici diciamo più cornici in legno una moda natura con una decorazione più spinta però di per sé anche qui è facilissimo perché il pannello poi è molto leggero quindi non ha non ha criticità semplicemente un po' più spesso di un quadro normale perché abbiamo spessore intorno ai 5-6 cm questa è la porzione dell'Octoberfest con i tavoli con i tavoli comuni anche qui si vede l'inserimento di pannelli a soffitto e del quadro ecco io ho completato ringrazio allora architetto io la ringrazio chiederei a Ilaia di ricollegarsi eventualmente cerchiamo di tenere i microfoni spenti quando uno non sta parlando perché abbiamo visto che c'era questo problema di eco oggi allora io ho alcune domande per voi e quindi vi coinvolgo un po' sono delle domande che sono arrivate da persone che sono collegate quindi i vostri vostri colleghi anche per completezza della descrizione del progetto architetto lei prima parlava degli impianti ci può ci può solo dire che impianti sono stati adottati all'interno di di questa birreria di questo ristorante birreria e deve riattivare il microfono però architetto abbiamo un impianto splittato con dei fan coil a soffitto circolari non abbiamo area primaria quindi non abbiamo canalizzazione di aria primaria perché il ricambio dell'aria è garantito dalle finestre insomma nel cambio naturale con l'apertura delle finestre quindi diciamo che di per sé è un impianto molto semplice per cui diciamo abbiamo l'unica cosa da gestire di per sé era appunto la posizione il posizionamento dei fan coil che comunque erano abbastanza ingombranti e che abbiamo diciamo integrato nella composizione proprio dei soffitti perfetto architetto torno da lei dopo perché ho un paio di domande da porre all'ingegner quarantelli innanzitutto allora vorrei forse non non c'è stata possibilità però vorrei l'aria che perché so che è possibile ci chiedono se è possibile avere delle informative sui pannelli tipo brochure tecniche eccetera io credo che dal sito si possono trovare molte informazioni sì sì allora su sito isospace.it ci sono tutte le informazioni tecniche ci sono varie il catalogo e sono le brochure dedicate ai prodotti ci sono anche molte molti casi di studio quindi come quello della della birreria che ovviamente è presente anche tanti altri casi studio quindi sì il sito è molto completo è possibile anche ricevere sia il catalogo che una campionatura scrivendo a isospace punto isospace che ho c'era isomant punto it e appunto richiedendo delle materiale tecnico allora ti ringrazio forse magari c'è qualche problema veramente sulla di eco oggi però allora la stampa che avviene sulla fibra in poliestere viene direttamente effettuata sulla fibra o c'è un tessuto non tessuto che viene applicato al di sopra del pannello per una migliore resa si applichiamo un tessuto non tessuto sempre in poliestere su cui stampiamo inizialmente proprio a livello produttivo stampavamo direttamente sul pannello poi appunto abbiamo migliorato il prodotto in questo modo perché la resa della stampa è ancora più più bella perfetto allora ti ringrazio ti ringrazio dall'architetto architetto allora abbiamo visto che voi avete deciso un po' di adottare questo sistema appunto per risolvere il problema acusto il problema del riverbero visto che c'era comunque delle travi si vedeva appunto nel grezzo che avete fatto vedere proprio che ha fatto vedere proprio all'inizio non avete pensato valutato magari che si poteva ribassare tutto a livello della trave per fare un controsoffitto acustico all'interno dei quali far passare tutti gli impianti eccetera è stata valutata questa opportunità oppure avete deciso subito che la soluzione migliore appunto vista anche l'altezza fondamentalmente ridotta degli spazi era quella di andare a cercare un prodotto differente una soluzione differente ma allora diciamo che qui non avevamo tante alternative perché uno spazio commerciale deve garantire almeno tre metri di altezza quindi eravamo già col solaio a tre metri però in realtà quella della questa scelta comunque la decisione fra un controsoffitto cioè un soffitto esposto oppure una superficie controsoffittata è un tema un po' sempre aperto quando si affrontano progetti di questo tipo che ha i suoi pro e i suoi contro in generale da un punto di vista diciamo impiantistico anche di prestazione ovviamente il soffitto un contro soffitto acustico diciamo permette se vogliamo di avere un soffitto più ordinato e quindi di riuscire a nascondere anche canalizzazioni e quant'altro però ha anche un diciamo un impatto dal punto di vista della sicuramente dell'altezza ha un impatto dal punto di vista anche dei costi che comunque è più costoso rispetto ad andare a fare degli inserimenti inserimenti mirati e poi ha una connotazione anche estetica diversa nel senso che in realtà se è gestito come per esempio in questo caso per certi tipi di estetiche per certi tipi di applicazioni un soffitto a vista dà il suo contributo estetico è anche più bello da vedere che non una porzione è completamente contro soffittata quindi diciamo che in questo caso non avevamo alternative però probabilmente l'avremmo fatto comunque diciamo perfetto architetto torno dopo da lei per ancora una domanda ci sono diverse domande Ilaria sulle misurazioni effettuate allora io vorrei che chiarissi questo punto nel senso in questo caso qua se non erro non sono state fatte delle misure in opera sono state fatte delle simulazioni del tempo di riverbero prima della correzione acustica e post correzione acustica sapendo superficie numero di pannelli che si andava a posare e quant'altro per cui vorrei che chiarissi questo punto perché secondo me forse il passaggio non è stato chiarissimo perché ci sono molte domande che ci chiedono effettivamente come sono state effettuate le misure allora preferirei che tu chiarissi questo punto certo sì dunque normalmente per valutare la diciamo la riverberazione in un ambiente ci sono due strade una è la misurazione fonometrica del riverbero e l'altra è la simulazione della appunto della riverberazione tramite modelli numerici in questo caso non era possibile effettuare delle misure e quindi anche perché le misure vanno fatte ad ambiente arredato ad ambiente finito mentre qui si stava parlando di un cantiere e non era non sarebbe stato possibile effettuare tutta la progettazione a cantiere finito quindi è stata fatta una simulazione per cui sì sono calcoli che sono normati e tengono in considerazione tutte le caratteristiche dell'ambiente da cui appunto si ottiene il risultato in questo caso tra l'altro si è lavorato diciamo in maniera iterativa per ottenere un risultato che fosse corretto acusticamente ma che fosse compatibile con l'ambiente quindi per esempio l'input era di lavorare sulla soffitto perché le superfici a parete di superficie a parete non ce n'erano a disposizione ce n'erano pochissime quindi abbiamo lavorato in questo modo con lo studio appunto area 17 per per trovare la soluzione ottimale che unisse estetica applicazione e conforto acustico eccomi qua torno di nuovo ti chiedo ti faccio anche un'altra domanda adesso vado a cercarla ah sì se puoi spiegare bene se c'è una differenza di resa del pannello style se viene posato adesso come abbiamo visto adesso in aderenza e a baffle cioè c'è una una differenza di resa sì c'è una differenza il pannello quando è usato in sospensione è più efficace dal punto di vista dell'assorbimento acustico noi per valutare le performance del pannello abbiamo testato in camera riverberante sia il pannello in applicazione in aderenza alla superficie che in modalità diciamo non in aderenza quindi libera in questo modo si misura il coefficiente di assorbimento acustico e l'area di assorbimento equivalente nelle due configurazioni e poi quando si progetta si utilizza un parametro o l'altro in base a come si disporranno i pannelli torno da te tra un attimo vorrei fare una domanda all'architetto Scanu che è stata rivolta sempre da uno dei nostri partecipanti e ci chiede un paio di cose innanzitutto uno come siete venuti a conoscenza del pannello se lo conoscevate va se l'avete già utilizzato in altri progetti e come mai vi siete rivolti direttamente all'azienda che comunque fa fornitura e supporto tecnico naturalmente del prodotto e non eventualmente a uno specialista quindi penso a un tecnico acustico questa è la prima domanda e poi ne ho anche un'altra con risposta molto veloce ok allora il diciamo che il prodotto lo avevamo già conosciuto diciamo tramite tramite ricerche nostre interne abbiamo diciamo il processo di inserimento all'interno del progetto varia nel senso che noi abbiamo ricevuto un grande supporto dall'azienda proprio nella fase di progettazione che diciamo ci ha supportato bene non so come dirvi non è questa una cosa che noi abbiamo preso comprato e messo lì noi avevamo il problema di rendere questo spazio confortevole anche dal punto di vista acustico e insomma abbiamo avuto abbiamo avuto risposta in fase progettuale secondo me l'aspetto un po' che mi ricollego poi alla domanda che è stata fatta ingegnere precedentemente quindi se queste sono state delle misurazioni fatte sul posto oppure virtuali o comunque dei calcoli precedenti questo è molto importante perché a meno che tu non abbia un ristorante che era stato fatto male all'inizio e che vuoi rendere migliore voglio dire non puoi fare altro che in realtà affrontare questo questo problema in fase progettuale per cui anche per il discorso dei tempi per il discorso insomma dello sviluppo è necessario avere dei partner delle aziende appunto che ti supportano nella fase di progettazione con le tempistiche proprie di questa parte di progettazione e che ti risolvano dei problemi sostanzialmente ora il nostro ci siamo trovati bene appunto abbiamo avuto un obiettivo centrato al centro per cento perché poi alla fine quando vai al ristorante ci stai bene che poi alla fine non è che senti il calcolo ma alla fine senti come stai effettivamente lo spazio è molto gradevole anche dal punto di vista appunto dell'acustica per cui direi che l'obiettivo è stato centrato appieno direi che non abbiamo sentito la necessità di avere un approccio diverso ecco non so come spiegarlo poi magari per progetti di altra complessità c'è bisogno di affrontare in maniera diversa però direi che su questo avevamo lo strumento abbiamo avuto la risposta più corretta mi diceva lei vi siete trovati già in fase progettuale poi fatemi dire non l'abbiamo menzionato ma anche una questione di costi cioè non è che nel senso alla fine questo qui è uno degli elementi che deve rientrare all'interno di un budget che a voi molto spesso sono aggressivi perché in questo tipo di progetti è tutto aggressivo cioè da tempistiche dai budget dalla realizzazione dalle aspettative per cui anche su questo sicuramente avere un prodotto fornito con il servizio giusto al prezzo corretto che ti dà il risultato cioè alla fine è questo quello che conta io le faccio un'ultima domanda architetto e poi ho ancora un paio di domande per per Ilaria lei prima e l'ha detto anche adesso parlava di tempistiche in questo tempo in questi in questi lavori se si ricorda se noi eventualmente glielo suggerisco io avendo seguito poi un po' il progetto ci può dire effettivamente la tempistica di posa dei pannelli perché credo sia fondamentale anche per far capire la facilità della posa di questi io penso che un giorno sia stato molto abbondante da questo punto di vista perché veramente li avrei potuti montare anch'io come cambiare una lampadina o poco più ovviamente vanno cioè ora voi li vedete così però insomma anche l'applicazione a soffitto che quella sembra quella più semplice in realtà ha l'esigenza di essere di essere progettata di essere armonizzata e coordinata con tutte le altre cose che succedono nel soffitto ma fatto questo è di per sé poi l'azione appunto di quando arrivano i pannelli vengono messi su è estremamente semplice allora io coinvolgo tutti e due perché adesso c'è una domanda che credo possa rispondere sia lei architetto quanto anche Ilaria come fornitore del pannello perché ci ci chiedono appunto della manutenzione della pulizia del pannello quindi credo che da parte sua architetto magari ci può essere una risposta sicuramente legata all'architettura e alla manutenzione quello è sicuro insomma Ilaria poi la coinvolgiamo per concludere il discorso e poi anche per altre domande allora io vi dico dalla mia esperienza si ricollega un po' anche alla domanda precedente che hanno rivolto all'ingegnere sul fatto se sia più performante il pannello posto in aderenza o sospeso è più performante quello sospeso dal punto dal mio punto di vista per esempio l'aspetto di manutenzione è invece completamente diverso cioè il pannello applicato a soffitto non a manutenzione cioè rispetto a un pannello sospeso dove invece si accumula la polvere che deve insomma periodicamente essere anche levata quindi ci sono dei pro e dei contro così vi ho risposto nel senso questi pannelli al momento non hanno avuto bisogno di nessun tipo di manutenzione perché non non si sporcano se no quanto si sporca un soffitto poi penso poi l'ingegnere dirà la sua però penso che la polizia sia molto semplice con un panno quindi adesso abbiamo sì 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 la manutenzione è molto semplice si possono diciamo se parliamo di polvere si possono passare con l'aspirapolvere o con l'area compressa quindi anche nel caso di posa in sospensione nel caso di macchie eventuali si possono passare con detergenti neutri comunque la materia prima è poliestere poliestere viene utilizzato anche per fare i vestiti per esempio quindi è un materiale plastico che si può lavare tranquillamente ok l'area allora ancora un paio di domande per te allora adesso vado a cercarle perché ce n'è una tra l'altro che è molto molto particolare e te la faccio per per ultima perché è un utilizzo del pannello un po' particolare ti chiedo se l'altezza dell'ambiente nell'utilizzo di questo tipo di pannelli è determinante cioè cosa qual è la discriminante nell'utilizzo di questo di questo pannello l'altezza dell'ambiente la volumetria di un ambiente e di conseguenza ti chiedo anche se non te l'ho già chiesto ma non credo se i pannelli acustici che vengono posti praticamente a baffle nel calcolo fonoassorbente viene la superficie fonoassorbente viene calcolata due volte perché lavorano su due facce quindi abbiamo questa seconda domanda e poi anche la prima Ilaria Sì dal punto di vista acustico quando calcoliamo la superficie l'area dell'assorbimento equivalente è la superficie da inserire nell'ambiente quando il pannello è posizionato a baffle o a isola la superficie conta doppia proprio perché è esposta due volte quindi sì nel calcolo si ottiene una superficie che poi va dimezzata per trovare diciamo il numero di pannelli effettivo poi era la discriminazione la discriminazione vuoi fare il calcolo sì allora l'effetto di riverbero in un ambiente dipende dal volume direttamente proporzionale al volume e inversamente proporzionale alla diciamo capacità di assorbire l'onda sonora delle superfici quindi maggiore il volume maggiore sarà riverbero e più superfici riflettenti avremo nell'ambiente maggiore sarà riverbero quindi non è tanto il pannello che fa la differenza ma proprio l'effetto che c'è nell'ambiente prima di intervenire se utilizziamo pannelli in aderenza diciamo a parità di risultato utilizzeremo più pannelli in aderenza e meno pannelli in sospensione la scelta tra l'aderenza e la sospensione dipende molto dal caso specifico quindi per esempio l'altezza a disposizione se abbiamo ampie altezze è utile utilizzare pannelli in sospensione se abbiamo una situazione di un'altezza bassa come in questo caso proprio comanda diciamo l'aspetto funzionale estetico e quindi il pannello verrà messo in aderenza ecco quindi un po' questa la scelta non dimentichiamoci che i pannelli si possono posare anche a parete e la posa mista distribuita tra parete e soffitto è sicuramente quella più efficace dal punto di vista acustico due domande velocissime la prima riguarda vorrei che tu ricordassi come si comporta questo pannello all'incendio perché è uscito la scorsa settimana anche adesso proprio l'ultima domanda che è arrivata è molto molto lapidaria incendio punto di domanda quindi chiariamo un po' anche questo di nuovo questa caratteristica poi ti faccio l'ultima domanda e chiudiamo ok sì i pannelli sono in tutti i pannelli iso space sono in euro classe B S2 di 0 quindi in euro classe B l'euro classe B corrisponde alla classe 1 italiana per cui sono si possono applicare negli ambienti pubblici a vista vanno lasciati a vista ovviamente sono appunto compatibili con la normativa antincendio perfetto hanno anche l'omologazione ministeriale ottimo ultima domanda che più che altro è una curiosità ce ne sono anche diverse sono anche molto specifiche eventualmente io te le giro e così magari risponderai adeguatamente a chi le ha poste è curiosa la domanda che è stata posta da uno dei partecipanti che io te la leggo alcuni miei clienti si sono cimentati eseguendo decorazioni o scritte sui pannelli style white in un caso una signora ha decorato a mano con ricette regionali un pannello tondo che poi andava a parete ha sempre suggerito questo nostro partecipante di usare colori leggeri che non andassero a saturare la trama del tessuto per evitare di ridurre l'effetto fonoassorbente hai mai avuto esperienze in merito avete mai avuto esperienze in merito in cui il pannello è stato direttamente decorato dall'utente finale diciamo che gli utilizzi creativi gli utilizzi creativi ne abbiamo una serie sicuramente la decorazione è una di questi c'è la decorazione l'utilizzo del pannello come base per quadri o semplicemente appunto decorazioni fai da te è correttissima l'indicazione che è stata data dal tecnico che ha scritto che ha posto la domanda infatti diciamo che tendenzialmente in linea generale sconsigliamo di andare a manumettere in qualche modo il pannello per il semplice fatto che non possiamo più garantire le prestazioni tecniche sia in termini di assorbimento acustico che in termini di reazione al fuoco ovviamente va valutato caso per caso nel senso che abbiamo clienti che vogliono dipingere completamente il pannello per farlo per esempio per ottenere lo stesso colore della parete o del soffitto in quel caso lo sconsigliamo perché comunque si va a creare una pellicola di sopra della superficie che va a chiudere completamente la parte a vista e quindi non assorbirebbe più il pannello mentre se vengono fatte decorazioni diciamo leggere con colori ad acqua che non coprono interamente il pannello è un altro discorso quindi si è un po' questo comunque capita spesso una domanda che ci fanno anche per esempio negli asili c'è capitato che si volesse far decorare i pannelli dai bambini c'è un po' il rovescio della medaglia della eventuale compromissione della prestazione ecco io faccio una domanda io faccio una domanda a tutti e concludiamo con questa perché ci chiedono se il colore del soffitto del pannello sono effettivamente gli stessi e come è stato colorato allora la prima parte lascio la parola a lei architetto per la seconda parte lasciamo la parola all'ingegner Quarantelli e poi andiamo a chiudere questo incontro bene allora diciamo che quello che sembra semplice poi di fatto mai lo è nel senso che per arrivare siccome non si può appunto pitturare sul pannello uno deve arrivare ad avere una corrispondenza cromatica quello che abbiamo fatto abbiamo fatto delle campionature quindi noi avevamo il colore di riferimento del diciamo della pittura murale del soffitto e abbiamo richiesto delle campionature probabilmente abbiamo fatto anche un paio di round mi sembra di campionature sino ad arrivare a un colore che fosse uguale a quello a quello del soffitto in alcune foto sembra che il colore sia diverso perché ovviamente il materiale è diverso quindi a seconda di come la luce incide uno può vedere una tonalità leggermente diversa poi la verità è che in realtà sono molto molto simili però ecco c'è da fare questo tipo di operazione perfetto architetto allora e l'aria ci chiedevano come sta come sta colorato è stato stampato nello stesso modo in cui stampiamo le immagini stampiamo anche i colori i colori sono i colori della scala pantone quindi praticamente tutti i colori possibili dato che le superfici vengono tinteggiate la scala di riferimento è diversa quindi c'è il rallo oppure altri tipi di scale abbiamo un pantonario oppure facciamo delle prove colore per raggiungere esattamente appunto la 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 tinta richiesta perfetto allora perfetto allora ti ringrazio Ilaria anche per per quest'ultimo chiarimento io vorrei ringraziare innanzitutto tutti e due voi sia l'architetto scano che l'ingegner quarantelli perché hanno portato alla luce insomma le peculiarità di questo progetto dal punto di vista del design dell'architettura delle scelte che sono state fatte a livello progettuale e anche dal punto di vista tecnico proprio per la risoluzione di un problema che comunque abbiamo visto fino dall'inizio dipende molto anche dalla destinazione d'uso dalla fruizione insomma che sia dell'ambiente stesso per cui un ringraziamento va veramente a tutti e due per la disponibilità e per averci fatto conoscere questo progetto io ricordo solamente a tutti quelli che sono collegati da casa che oggi eravate veramente in tanti voglio ricordare che tra un paio di ore riceverete un link da cui potrete scaricare le relazioni che avete visto oggi quindi avrete sei riferimenti di area 17 quanto anche dell'ingegner Quarantelli e anche un riferimento tecnico per quanto riguarda il pannello style di cui abbiamo parlato fino ad ora e vorrei poi anche ricordarvi che visto che in qualcuno me l'ha chiesto potete andare poi a rivedere la registrazione di questo webinar sul canale youtube di Edicom News tra qualche giorno credo già al fine settimana sarà già disponibile per andare a rivederlo quindi se volete andare a rivedere appunto dei passi delle spiegazioni che non vi sono state chiare o avete perso magari per qualche distrazione la descrizione di progetti o del pannello io vi ricordo che c'è ancora questa possibilità per cui io adesso ringrazio tutti vi auguro una buona serata e vi do naturalmente appuntamento a tutti gli altri incontri di Edicom eventi quindi grazie a tutti e due e grazie a voi che siete rimasti collegati da casa fino adesso so